terremoto acquaroli chiede lo stato d'emergenza a fano 400 fiaccole in ricordo di anastasia a pesaro riapre la piazza e arriva l'albero di natale nascono le cinque aziende sanitarie territoriali delle marche caro bollette con commercio punta sulle comunità energetiche buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 21 novembre che apriamo con la ufficialità della richiesta dello stato di emergenza per il terremoto questa mattina infatti il presidente della regione marche francesco acquaroli ha inviato la richiesta al governo acquaroli in una nota ha spiegato che come anticipato durante il consiglio regionale dello scorso giovedì appena terminato una prima ricognizione si è infatti proceduto a inviare la richiesta secondo acquaroli lo stato di emergenza va suffragato da dati precisi dettagliati per poter così rappresentare lo stato della situazione a seguito delle scosse la prima fase della ricognizione si è completata questo weekend e così in mattinata si è proceduto a inviare richiesta al ministro per la protezione civile e politiche del mare nello musumeci e al capo dipartimento nazionale della protezione civile fabrizio curcio e ieri mattina alle 6 e 20 si è registrata la terza scossa più potente di terremoto dopo le prime due del 9 novembre scorso ieri una magnitudo 4.3 sempre con epicentro in mare a circa 21 chilometri da fano oggi al dodicesimo giorno di sciame sismico altre scosse ma di magnitudo inferiore a 3 continuano in tanti sopralluoghi dei vigili del fuoco che da inizio emergenza hanno portato alla dichiarazione di 55 edifici inagibili di cui 32 ad ancona e 23 a pesaro città di pesaro dove sono in corso altri sopralluoghi nel palazzo di via del maio evacuato mentre sono rientrati i residenti in via della robbia dopo la rimozione della ciminiera verifica in corso anche al duomo dove sono caduti calcinacci a due passi dall'altare così come pezzi di cornicione sono caduti dal palazzo della questura e hanno portato i vigili del fuoco a transenare parte del tracciato stradale fra via giordano bruno e via del fallo ed ora torniamo a parlare dell'omicidio di anastasia a lascere con la città di fano che a una settimana dal delitto si è raccolta ieri in una grande fiaccolata collettiva le note di ciaikovsky che anastasia amava suonare al pianoforte eri in tocchi di pioggia a far breccia sul silenzioso raccoglimento di 400 persone unite in una fiaccolata 400 candeli in mano a fanesi e cittadini della locale comunità ucraina che ieri si sono radunati in corteo dal pincio a piazza 20 settembre raccolti nel commosso ricordo di anastasia lasceri 23 anni fuggita dalla guerra in ucraina e adottata dalla città di fano dove il 13 novembre scorso è stata uccisa a coltellate dal marito ambrallà mustafa alashri un corpo senza vita ritrovato chiuso in un troll il giorno seguente nelle campagne fanesi di villa giulia un femminicidio che ha scosso la comunità di fano dove anastasia si era integrata lavorando come cameriera all'osteria della peppa e mettendo a disposizione il suo talento al pianoforte dando lezioni alla scuola di musica bramucci una fiaccolata di solidarietà declinatasi anche in una raccolta fondi per la famiglia lasceri e per il futuro di un bambino di due anni rimasto orfano di una mamma uccisa dal papà uno striscione ha stigmatizzato il no alla violenza della città di fano come lo hanno fatto le parole del sindaco seri dell'assessora cucchiarini e del vescovo armando trasarti in mezzo al corteo fra la comunità ucraina anche la mamma e la sorella di anastasia arrivate nel weekend alla slovacchia sulle cui identità è stato concesso il riservo dell'anonimato conclusa la fiaccolata le donne ucraine hanno raccolto le 400 candele saranno rifuse trasformate in torce e inviato a sostegno delle zone ucraine di guerra e dalla piazza di fano passiamo a quella di pesaro che ieri è stata riaperta e restituita alla città dopo dieci settimane di lavori la piazza del popolo si spoglia dai cartelli di lavori in corso tornando a distanza di 70 giorni il fulcro del centro storico di pesaro dieci settimane di lavori ininterrotti per un costo complessivo di 600 mila euro in grado di restituire ai cittadini una piazza restaurata in attesa di diventare anche uno dei palcoscenici di pesaro capitale della cultura 2024 un restyling consegnato domenica pomeriggio attraverso uno spettacolo di luci a disegnare il passato e il futuro della città a sottolineare l'importanza della storia ma anche le ambizioni per rendere pesaro sempre più attraente così poco tempo è in anticipo rispetto a quelle che sono le previsioni al cronoprogramma quello che avevamo pensato oggi restitutiamo un salotto come dicevo rinnovato un salotto che si prepara anche al 2024 quindi lo vedremo sempre di più come luogo centrale per gli eventi, eventi culturali, iniziative culturali ma anche popolari in queste dieci settimane sono state anche l'occasione per riscoprire la storia della nostra città grazie a un lavoro portato avanti insieme alla sovrintendenza sotto la direzione scientifica della sovrintendenza con quindi dei ritrovamenti che ci consentono oggi di scoprire qualcosa di più di pesaro e per l'occasione abbiamo pensato un momento inaugurale con qualche effetto speciale con qualche effetto speciale anche questo reso possibile grazie alla disponibilità della ditta e quindi sarà un momento di festa perché la piazza è il luogo identitario per eccellenza della nostra città e quindi ci sembrava giusto in qualche modo fare, diciamo così, renderle onore lo facciamo con questa festa, purtroppo il tempo non è stato dalla nostra fino a qualche giorno fa però ci siamo 4000 metri quadrati di superficie rinnovata grazie anche all'importante recupero di San Pietrini riutilizzati è un grande ringraziamento dunque sia alla direzione lavori, all'architetto Maurizio Severini al responsabile procedimento Ugo Baiocchi, alla ditta, a Mariotti Costruzioni un cantiere dove veramente tutto ha funzionato bene una piazza di Pesaro che dal prossimo 8 dicembre diventerà anche il punto centrale di Pesaro nel cuore con l'accensione dell'albero di Natale che proprio oggi è arrivato in piazza cerimonia di accensione dell'8 dicembre che darà il via alle iniziative di un Natale pesarese che non vuole perdere il suo fascino ma con meno consumo energetico è arrivato questa mattina l'albero di Natale di una piazza del popolo che appena ieri sera era stata liberata dalle transenne dopo dieci settimane di cantieri il simbolo delle festività pesaresi sarà illuminato da 100.000 luci a led a basso consumo che si innescheranno nella cerimonia di accensione fissata per l'8 dicembre alle ore 18 8 dicembre che sarà anche la partenza di Pesaro nel cuore il Natale pesarese che il sindaco Matteo Ricci ha annunciato come un Natale ancora più bello ma con meno energia sprecata non ci saranno infatti luminarie le luci saranno circoscritte all'illuminazione dell'albero e a quelle di sculture luminescenti che saranno collocate nella porta d'accesso al centro di piazzale Lazzarini, Matteotti, Collenuccio e Corso 11 settembre non mancherà però un ricco programma di iniziative abbiamo preparato un programma veramente interessante un programma più articolato e più diciamo bello rispetto agli altri anni proprio perché volevamo far sì che nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico e possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo e quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città porteranno l'atmosfera natalizia partecipiamo insieme a tanti bellissimi altri eventi a colorare il Natale di Pesaro quest'anno siamo sul palco, bellissimo palco messo a disposizione dal comune dove ci sarà praticamente uno spettacolo tratto dalla puntata che in onda su Cartonito in questo momento della serie Whisky sui Amici quindi sarà uno spettacolo interattivo fra video coloratissimi, bellissimi, canzoni, balletti e recitazione inoltre abbiamo dei gazebi dove facciamo dei laboratori proposte diverse balli, canti, laboratori, giochi e cucina una piccola variante sul Natale a Pesaro Al fianco di DNA la macchina rodata di Pesaro Village sarà parte integrante delle animazioni di un mese di festività natalizie così come rodata e la collaborazione con il liceo artistico Mengaroni con gli studenti delle classi terze di arti figurative e interior design che hanno realizzato le palle decorative dell'albero Questa è una pallina di Natale che abbiamo decorato in classe durante le ore di laboratorio possiamo vedere che sui toni del blu e del bianco e dell'argento abbiamo usato degli smalti e ci siamo ispirati a diverse palline di tema di paesaggi vintage è stato un progetto molto bello proprio perché noi in generazione Z siamo abituati al moderno alle luci, a vedere tutto tecnologico e ci ha aperto uno spiraglio, un faro su magari tradizioni che avevamo dimenticato e avevamo abbandonato Quest'anno in modo particolare, perlomeno a me è piaciuto e penso anche ai ragazzi, il soggetto, il tema sul risparmio energetico per cui c'è stato un recupero ma anche di un Natale più sobrio più tradizionale che non è detto sia peggio anzi forse c'era bisogno di recuperare anche dei valori poi alla fine il Natale è bello e sfido chiunque a pensare che le palline di Natale, di un albero di Natale non siano affascinanti e per cui i ragazzi hanno lavorato a questo soggetto pensando però anche addirittura a delle decorazioni vintage per cui ancora un recupero più tradizionale del tutto Saranno tante le vie del centro essere animate da un Natale all'insegna della solidarietà come via Corel dove ci sarà il luogo dedicato al villaggio natalizio dell'Avis è un po' un azzardo perché è lontano dalla piazza ma è anche la strada dove c'è la nostra sede e vogliamo donare a tutti i cittadini di Pesaro un piccolo villaggio di Babbo Natavis perché di solito parlare di sangue viene associato sempre a un evento brutto invece noi lo vogliamo associare a un evento bello che è quello dell'atmosfera natalizia e abbiamo creato appunto questo piccolo villaggio dove ci sarà un piccolo pony la casetta di Babbo Natale e l'angolo per scrivere le famose letterine per poi spedirle direttamente nella cassetta di Babbo Natale che si troverà lì quindi vi chiediamo a tutti di allungare la passeggiata fino a via Corel e di venirci a trovare prende concretezza la riforma sanitaria del governo Acquaroli con la giunta regionale che oggi ha approvato le 5 delibere per gli atti di costituzione delle 5 aziende sanitarie territoriali delle Marche per Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro che sostituiranno l'Asur Unica le aziende avranno autonoma personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa e gestionale giunta regionale che oggi ha anche deciso di stanziare 100.000 euro per il caro Bollette un contributo che sarà rivolto alle famiglie con ISEE non superiore a 12.000 euro o con ISEE non superiore a 20.000 euro in caso di famiglie che hanno almeno 4 figli a carico ma anche a beneficiari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza e a famiglie con componenti affetti da patologie che necessitano dell'uso di apparecchiature elettromedicali Caro Bollette che ci porta anche ad occuparci di comunità energetiche un argomento che questa mattina è stato affrontato attraverso un convegno organizzato da Confcommercio, Marca e Nord per studiare strategie utili a fronteggiare con l'impegno delle amministrazioni locali le sfide del Caro Energia e dei cambiamenti climatici Caro Energia, Caro Bollette, emergenza climatica tre tematiche, tre criticità strettamente correlate che oggi Confcommercio, Marca e Nord ha affrontato attraverso un convegno tenutosi qui nella sede pesarese dell'associazione di categoria un convegno che viene affrontato attraverso una chiave di lettura quella delle comunità energetiche una realtà, un'opportunità, una possibilità di sviluppo futuro questo il convegno che ha visto la presenza di comuni di esponenti della regione Marche di associazioni di categoria, di mondo dell'impresa interessate da questo argomento che può essere un tentativo di contrastare queste criticità che stanno attanagliando l'inverno attuale Abbiamo anche deciso di fare una riflessione questo convegno sulle comunità energetiche perché sono uno strumento utile a consentire risparmi sulle bollette energetiche coinvolgendo la regione, coinvolgendo gli enti locali e questo è molto importante perché la comunità energetica è uno strumento molto utile di fatto è un'associazione tra cittadini pubblica amministrazione, imprese commerciali e piccole e medie imprese per utilizzare le energie rinnovabili ottenere quindi dei risparmi sulla bolletta energetica e addirittura anche con gli incentivi del GSE avere la possibilità di vendere l'energia in surplus alle autorità Mi piace però anche sottolineare il fatto che la parola comunità a noi piace la comunità è un insieme di persone che vivono insieme che condividono certi ideali, certe idee certi progetti, certi obiettivi quindi la comunità energetica ha diciamo molti benefici intanto un beneficio di carattere se vogliamo sociale il fatto appunto è di abituare la gente a lavorare insieme a ragionare insieme perché devi mettere insieme tanti cittadini tante botteghe tante piccole imprese per raggiungere un obiettivo poi quindi un vantaggio di natura economica perché come abbiamo detto può consentire il risparmio anche con la vendita del surplus di energia e poi c'è un vantaggio ambientale perché qui si utilizza energia da fonti rinnovabili quindi non dal fossile e quindi con una diminuzione delle emissioni di CO2 e anche di dispersione lungo la rete Al tavolo dei relatori oltre ad Amerigo Varotti anche esponenti della regione Marche e dei comuni due realtà amministrative che possono fare tanto in questo senso come ha ricordato l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli Un'iniziativa che guarda al futuro ma che sottolinea anche l'azione della pubblica amministrazione in questo caso della regione Marche che nella sua visione infrastrutturale di lavori pubblici così come dello sviluppo energetico che dovrà riguardare questo territorio pone al centro della sua azione quattro principi cardine innovazione sostenibilità intermodalità e sicurezza innovazione e sostenibilità vanno di pari passo innovazione perché dobbiamo guardare al futuro sostenibilità perché dobbiamo avere sostenibilità sociale ambientale ed economica e finanziaria questo lo facciamo anche con le tecnologie che applichiamo all'energia è una possibilità nella quale la regione Marche crede molto è stata infatti proprio varata una legge regionale specifica per incentivare e per aiutare la costituzione di queste comunità quindi la regione ci crede molto ci crede molto nei prossimi finanziamenti europei che sono ormai in corsa sono destinati parecchi milioni per l'energia in generale ma anche in particolare per le comunità energetiche l'aspetto che noi troviamo molto positivo è un aspetto di ricaduta sociale degli investimenti che verranno fatti nella produzione energetica da fonte rinnovabile che come ben sapete in passato erano invece investimenti fatti per un profitto diretto delle imprese che investivano in questo campo l'altro aspetto è anche quello della maggiore accettazione noi nelle Marche abbiamo vissuto delle fasi in cui le installazioni di produzione energetica a fonte rinnovabile come penso al biogas penso all'eolico hanno avuto grosso contrasto grossi conflitti perché non erano ben accetti questa tematica è molto importante per i comuni perché questi possono essere i protagonisti della transizione energetica che passa attraverso le comunità energetiche rinnovabili queste comunità energetiche sono previste dall'Unione Europea con la direttiva Red 2 e vengono recepite solo ultimamente dai comuni che però trovano delle difficoltà nell'attuazione ancora manca la risoluzione di problematiche tecniche e soprattutto manca una formazione e un'istruzione di quello che è l'apparato politico che poi dovrebbe dare il via a tutto il processo i comuni sono probabilmente il soggetto più adatto sia ad incentivare che a creare e gestire una comunità energetica rinnovabile oggi 21 novembre si è celebrata la Virgo Fidelis la patrona dell'arma dei Carabinieri che nel caso di Pesaro è stata accompagnata da una funzione religiosa nella chiesa della Madonna delle Grazie funzione ufficiata dall'arcivescovo Sandro Salvucci alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri Gianluigi Cirtoli e dei vertici provinciali di tutte le forze di polizia un'occasione di ricordo dei commilitoni scomparsi e una riflessione sull'impegno dell'arma resterà ufficialmente in carica fino al 28 novembre ma di fatto il prefetto Tommaso Ricciardi ha avuto lo scorso weekend la sua ultima uscita pubblica pesarese all'hotel Flaminio in occasione della serata di grande ciclismo organizzata da Fisioradi Medical Center serata che vi proporremo con uno speciale tv che andrà in onda su Rossini TV venerdì 25 novembre alle 21.20 nel frattempo ascoltiamo proprio l'intervista realizzata nell'occasione al prefetto Ricciardi dal nostro Paolo Pagnini col prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi a poche ore da un momento importante della sua vita non stiamo a sottolineare non poteva mancare questa opportunità di passare in rassegna il meglio del ciclismo locale e non solo sì sì ma diciamolo se così non alimentiamo dubbi vado via perché vado in pensione e quindi oggi è l'ultimo giorno di scuola e chiuderlo in un contesto così bello con lo sport che io ho sempre detto che lo sport è vita e cultura e quindi per me è stata una gioia accogliere l'invito di Maurizio Radi che ha organizzato questa bellissima serata quindi chiudo chiudo veramente in bellezza nonostante l'ultimo bimestre non sia stato favorevole tra alluvione e un po' di terremoto però insomma tutto sommato è stato un periodo intenso dove ho più volte rimarcato e quindi colgo l'occasione che mi offrite per ribadire e ringraziare tutti per l'accoglienza la cordialità l'affetto l'afflato con il quale sono stato sono stato accolto e questo rimarrà vivo nei miei ricordi e sarà la molla che mi che auspico vivamente di poter ritornare qui e godermi le bellezze di questa città e di questo territorio domani martedì 22 novembre alle ore 21 la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana e i solisti del Conservatorio Rossini diretti da Maglio Benzi celebreranno Santa Cecilia nel Teatro Sperimentale di Pesaro il concerto sarà anche l'occasione per ricordare il 140esimo anno di attività del Conservatorio Rossini il programma scelto per l'occasione sarà dedicato al genere del concerto per strumento solista e orchestra studenti scelti dell'Istituto pesarese si confronteranno con i professionisti della Form e col direttore Maglio Benzi come da tradizione il concerto sarà preceduto alle 18.30 da una messa solenne presso la chiesa di Sant'Agostino celebrata da Monsignor Sandro Salvucci Arcivescovo Metropolita di Pesaro ed ora vi proponiamo queste immagini che arrivano invece dalla pista romagnola di Misano Adriatico dove questa volta sulla starting grid del prestigioso circuito non erano schierato moto o auto in attesa che la luce rossa si spegnesse ma bensì una banda a quattro zampe testimonia del nuovo progetto di cuore in corsa uno spettacolo reso possibile dalla vulcanica mente del pilota animalista Jack Lucchetti dalla straordinaria ospitalità del Misano World Circuit che ha spalancato le porte di paddock box e pit lane ai tanti animali una giornata in cui è stata lanciata la campagna di crowdfunding del primo racing team animalista d'Italia che partirà martedì 29 novembre l'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la creazione di una struttura tecnica composta da moto furgone maxi stand hospitality al servizio di missioni di soccorso raccolte alimentari e altre campagne di sensibilizzazione e chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport del lunedì dopo una domenica e un weekend che hanno registrato una strepitosa vittoria della VL un pareggio amaro per la Miss Pesaro come amarissime sono state le sconfitte per Fiorini Pesaro Rugby Italservice nel calcio 5 e Megabox Vallefoglia nella Serie A di Pallavolo Con la vittoria della Vittoria Libertas il weekend delle squadre pesaresi impegnate nelle diverse discipline è risultato meno amaro l'unica gioiera è infatti la squadra di Repesia che nel posticipo di domenica sul parquet di Brindisi si è imposta per 102-74 un'ottima prestazione di squadra condita dai 24 punti di Abdurrahman a regalare il quinto posto in classifica con 8 punti in 7 giornate dai biancorossi del basket ai biancorossi del calcio con la vis che torna a gonfiare la rete dopo 621 minuti a digiuno ma che non è comunque bastata per portare a casa i tre punti 1-1 il punteggio finale al Benelli contro una fermana che non vinceva da 9 partite e ferma il terzultimo posto con 11 punti alla quinta rete stagionale di Fedato siglata al minuto 54 hanno risposto gli ospiti al novantesimo con Bunino che di fatto ferma i biancorossi in casa che salgono a 15 punti in classifica confermandosi il peggior attacco del torneo nel campionato di Serie D è arrivata sul campo del Senigallia la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate per l'Alma Juventus-Fano che subisce un netto 3-0 dai padroni di casa grazie alle reti di Mancini Pesaresi e Cariota Granata che con 19 punti e pur sempre ancora in zona playoff vede ridursi il gap delle inseguitrici nel calcio a 5 l'Ital Service non riesce a replicare l'ottima prestazione della partita precedente perdendo 3-4 al palafiera contro la penultima a Niene illusorio il doppio vantaggio iniziale dei ragazzi di Mister Colini che si sono visti poi rimontare dalla tripletta in 9 minuti di Salla 8 punti su 8 partite e il magro bottino ottenuto sin qui dai biancorossi a più 1 dalla zona retrocessione primo dispiacere casalingo per la Fiorini Rugby Pesaro sconfitta nel finale dalla Cavalieri Union Rugby per 20-22 nella pallavolo 0 punti per la Megabox Vallefoglia dalla trasferta di Bergamo uscita dal campo con il punteggio di 3-1 a favore dei locali che bloccano le Tigri a 8 punti in classifica meno 3 dai playoff e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata che parte alle 21.20 come ogni lunedì con Check Up Obiettivo Salute il programma realizzato dal nostro Antonio Astuti in collaborazione con Fisioradi Medical Center questa sera approfondiremo la chirurgia mini-invasiva in compagnia del dottor Ignazio Borghesi medico-chirurgo specialista in neurochirurgia come detto appuntamento alle 21.20 con prima replica alle 23.15 e poi tante repliche che vedete in grafica tutti i giorni e a seguire alle 22 torna l'appuntamento con l'esclusiva di Rossini TV quella delle partite indifferita della Fiorini Pesaro Rugby che come detto ha affrontato i Cavalieri Union Prato Sesto questa sera alle 22 rivedrete tutto quello che è successo ieri al Toti Patrignani di Pesaro e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa della provincia di Pesaro Rubino che vi tiene compagnia come sempre dal lunedì al sabato rigorosamente in diretta dalle 7.20 rassegna di domani martedì che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi E si conclude invece qui lo spazio informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti